La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo sul caso della disabile schernita ed infassidita da un operatore della Croce Bianca all'interno di un'ambulanza. Saranno dunque svolti tutti gli accertamenti del caso per far chiarezza sulla vicenda. I reati ipotizzabili potrebbero essere percosse e lesioni, reati che però richiedono una querela della parte offesa ad oggi non presentata. La donna potrebbe essere sentita nei prossimi giorni dai PM. Intanto l'associazione Aretina ha sospeso per un mese i due operatori per destinarli poi ad altre mansioni. A far scoppiare il caso la pubblicazione di un video su Instagram nel quale si vedeva un operatore della Croce Bianca infassidire una donna disabile all'interno di un'ambulanza punsecchiandola con un ombrello. Scena ripresa con un cellulare da un altro volontario dell'associazione Aretina. Il tutto infine è finito sulla rete con tanto di emoticon sorridenti. Il filmato è stato rimosso poche ore dopo essere stato postato. Il video era stato girato nei primi giorni di gennaio ma solamente il 14 gennaio è stato visto da uno dei consiglieri della Croce Bianca che riconoscendo gli operatori ha denunciato all'episodio al consiglio direttivo. Sono così scattati i provvedimenti. Per un mese dunque i due volontari sono stati sospesi da ogni tipo di servizio. In ogni caso queste però sono valutazioni che ovviamente ha compiuto l'organo amministrativo e che laddove venissero ovviamente accertate responsabilità di tipo diverso sarebbero assolutamente rivedibili e perché no anche modificabili. Potrebbero essere allontarati? Beh a seconda ovviamente la situazione è in divenire quindi gli organi amministrativi sono sempre disponibili a rivalutare le posizioni. Si tratta di un fatto estremamente giovane da un punto di vista di tempistica per cui le valutazioni che sono state fatte sono valutazioni allo stato degli atti secondo quelli che erano i poteri di verifica e indagine del consiglio. Laddove intervengano autorità con poteri di indagine molto maggiori e si dovessero accertare delle realtà un pochino diverse o più gravi di quelle che sono state riscontrate benvenga all'opportunità di rivedere i provvedimenti questo senza dubbio.